In un altro momento perché se no finisce che mi incazzo anch'io, però mi spiace che mi hai votato se pensi che sei una persona che se ne frega e per cui le persone non contano nulla mi spiace che mi abbia votato. La cosa invece che volevo dire è che non esiste a como informazione indipendente dal potere. Scusatemi, fatemi conoscere l'informazione che dipende dal potere così magari la usiamo.